Passano otto ore al giorno a stretto contatto con pc e smartphone. Sono iperconnessi ma non hanno relazioni. Sono i giovani di oggi, una generazione sull'orlo della più grave crisi psicologica di sempre, veri e propri prodotti in vetrina alla costante e ansiosa ricerca di like sui social. A loro si rivolge educazione sentimentale, il percorso di rialfabetizzazione emotiva organizzato dalla consulta giovani del Consiglio regionale del Piemonte che ha preso il via a Verbania di fronte a una platea di 150 giovani delle quinte superiori. Quest'idea è partita con il desiderio di poter trattare un tema come quello della violenza contro le donne in un modo diverso e di quanto ovviamente debba essere contrastato. Diciamo che la prospettiva è stata quella di inquadrare in un modo differente andando a occuparci dell'aspetto della prevenzione da un punto di vista culturale. L'obiettivo è esattamente questo, sensibilizzare i giovani che sono distratti, che sono assorbiti in quello che è un mondo oggi che è in gran parte un mondo digitale all'interno del quale c'è un livello di esperienza anche della socialità diverso da quanto è avvenuto negli anni passati per le generazioni passate. Il percorso primo in Italia toccherà tutto il Piemonte. Di fronte alla platea dei giovani Paolo Ercolani, docente di filosofia dell'educazione all'Università di Urbino e Giuliana Mieli, filosofa e psicoterapeuta. Non semplici lezioni ma un confronto aperto con i giovani che proprio a causa dell'iperconnessione si ritrovano a vivere in una dimensione diversa dalla realtà. Tutto per abituarsi a guardarsi dentro, a riscoprire se stessi e i sentimenti e non rimanere, bacheche viventi, dove raccontare solo le cose positive. È stato spiegato in maniera molto chiara come ai giorni d'oggi ci sia diciamo una sorta di difficoltà nel esprimersi col prossimo e sinceramente dopo questa conferenza è stato diciamo molto più chiaro per me capire come rapportarsi col prossimo. Secondo me gli eventi del genere sono sempre utili per informare noi che siamo appunto dentro questa società che è molto invasa dalle nuove tecnologie per informarci. Sensibilizzare su temi come le nuove tecnologie ma anche soltanto su come ci si approccia secondo me è cruciale. Questo incontro quindi cosa ci può insegnare? A capire che comunque ogni persona essendo che ha una propria emotività ha dei suoi blocchi e che quindi anziché cercare sempre di giudicare come facciamo spesso andare a valorizzare il fatto che esistano i sentimenti e di conseguenza giudicarli in maniera più opportuna.